La sua punto è andata a schiantarsi contro il guardrail della strada statale 117 bis, all'altezza dello svincolo di Piazza Armerina Nord, finendo quasi per essere spezzata in due dalle lamiere. È morto così ieri sera un carpentiere di 65 anni di Piazza Armerina. Dopo alcune ore i soccorritori sono riusciti a estrarre il corpo dalle lamiere, tentando disperatamente di rianimare il 65enne, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è consumato sulla statale 117 bis. Sul posto sono arrivati tempestivamente la polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, inoltre, l'auto sarebbe arrivata da Gela e nella prossimità del bivio l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. È l'ennesima tragedia che colpisce la città dei mosaici, che negli ultimi mesi ha pianto numerose vittime della strada, molte delle quali purtroppo giovani.